Non saranno 28, ma almeno per il momento 30 i giocatori in partenza da Pescara per la seconda parte del ritiro precampionato a Palena. La lista di ramata da Zeeman però sembra davvero ancora molto provvisoria. Un po' per questioni che potrebbero non riguardare direttamente il mercato. Un po' perché alcuni che oggi sembrano in lista di partenza potrebbero alla fine rimanere in bianco-azzurro. Mancano, ma per infortunio, Cesare Bovo e Michele Fornasier. I due difensori infatti restano a Pescara per curarsi e riprendersi al meglio e potersi presentare in forma al primo impegno ufficiale della stagione. Per molti invece è un'esclusione che sa di una rivederci e grazie. Infatti mancano coloro che certamente non faranno parte della rosa per il campionato di Serie B. Non c'è Stendardo che a giorni, se non a ore, concluderà ufficialmente la sua avventura in bianco-azzurro. Manca all'esterno Andrea Rossi, così come gli elementi che in questi ultimi tornei hanno trovato spazio in prestito in terza serie. Dalla lista esclusi anche Bulevardi, Milicevic, Polidori, vicino però alla Provercelli, Lucaforte, Vitturini, che ha un accordo con il Carpi, e l'altro infortunato Andrea Cocco. Tolti questi rimangono in 30, ma come detto è un numero che Zeman continua a considerare provvisorio, anche perché alcuni di questi, pur non essendo stati mesi sul mercato, potrebbero ricevere offerte che il Pescara valuterà. Ad esempio proprio Bovo, che Spal e Crutone vorrebbero per consolidare da subito la propria linea difensiva. O come il capitano Ledyan Memushay, su cui è tornato il Sion dopo la scopola rimediata in Europa League, e che vorrebbe l'albanese per dare consistenza alla mediana. Il Pescara chiede una cifra che si avvicina al milione di euro. Gli svizzeri vorrebbero spendere decisamente di meno, ma come di consueto, più il mercato inizia ad avere i giorni contati, più limare i dettagli diventa esercizio semplice. O ad esempio come Ben Ali, che potrebbe diventare l'ideale sostituto di Patrick Schick alla Sampdoria, in caso di partenza del Ceco. Ben Ali andrebbe a rinfoltire una rosa di ex Biancazzurri che già comprende Torreira, Verre e Caprari. Non è escluso che a centrocampo i movimenti in uscita potrebbero riguardare anche Bruno e Selasi, da valutare anche la posizione di Nicastro, altro giocatore che potrebbe rimanere in cadetteria, ma con un'altra maglia addosso. E in entrata allora è ancora tutto fermo, aspettando che qualcosa comincia a muoversi sul frontecessione, ovviamente. La società Biancazzurra continua a lavorare, ma per gli affondi c'è da aspettare. Ad esempio quelli per Massimiliano Gatto, Matteo Pessina e l'eventuale ritorno in Biancazzurro di Antonio Balzano. Intanto Zeman parte con la truppa dei 30 e con parecchi giovani, che col boemo sanno di non essere solamente degli aggregati. Dell'Icari e del Sole saranno quasi certamente il futuro del Peschiara. Il tecnico però si augura che possano esserne anche il presente.